Due svastiche, una croce celtica e la scritta Forza Nuova. E' la brutta sorpresa che ieri mattina hanno trovato i membri del circolo PD di Parco Arbostella a Salerno. L'atto vandalico si sarebbe consumato nottetempo. Un'intimidazione che denunceremo penalmente è stato il commento dei dirigenti PD. Da Forza Nuova invece si dichiarano totalmente estranei. Sulla questione è intervenuto il segretario provinciale del Partito Democratico, Vincenzo Luciano. C'è un po' da riflettere su questo gesto perché evidentemente il clima che c'è a livello nazionale, che si respira a livello nazionale, un po' un clima di odio, di rancore, sta in qualche modo provocando nell'immaginario di alcuni simpatizzanti elettori di centrodestra, un po' più estremisti, la volontà di rappresentare, di ripristinare forse un periodo che non c'è più e che noi ci auguriamo che sicuramente non arriverà, di violenza, di odio, di rancore nei confronti forse degli altri, quindi dei più deboli, dei diversi, di quelli che hanno un colore della pelle diverso dal nostro, quindi tutti nei confronti di una serie di categorie e di persone che sono quindi individuate come diverse. È ovvio che si presenterà una denuncia perché occorrerà individuare, eventualmente ci riuscissimo, gli autori di questo gesto e poi quindi che ovviamente la cui gravità verrà anche valutata dalle autorità competenti. È giusto che rispetto a una vicenda del genere sia la magistratura e quindi siano gli organi giudiziari ad accertare i fatti quanto a responsabilità e quanto ad autori.